Allora Laura, noi iniziamo a questo punto. Naturalmente è graditissimo il mio compito di introdurre questo bel libro sui salumi bresciani, la storia e la tecnica il gusto, a cura di Gianmichele Portieri e di Laura Cottarelli. Ora questo è il quarto volume di una collana a cura della nostra fondazione e del Centro Studi San Martino. Ma siamo fieri perché questo volume è stato in stand-by, si dice, per tanto tempo. E solo la grande forza e caparbietà, diciamo prima delle signore di Laura e poi di Gianmichele, lo ha portato così alla fine, ma devo dire che è una pubblicazione molto bella anche dal punto di vista grafico, piena di elementi, fra cui gli incisi, per saperne di più, che danno davvero una gradevolezza infinita a questo libro. Ora, i contributi tra l'altro sono assolutamente interessanti, perché su questo tema poi insomma si può scivolare anche un po' alcune cose anche un po' kicce, come sono state fatte in passato, invece io credo sia rimasto davvero su un livello ottimo. E quindi un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo libro. Io li cito e praticamente non conosco nessuno. Ho conosciuto Ugo adesso Bonazza, Luigi Bellini, Mauro Capelloni, Riccardo Contessa, Antonio Felice Fiorentino, Costanzo Gatta, Michele Pasolini, Valerio Pozzi e Silene Orsola Tomasini. Ecco, allora, dirò poche cose, perché poi i grandi guru di questo argomento sono alla mia sinistra e alla mia destra. E quindi per tutto quel che riguarda anche gli aspetti di carattere storico, insomma, storico, sociologico, direi che per tanti aspetti già Michele si è preso gli spazi, no? E per quel che riguarda invece poi tanti riferimenti relativi alla DOP, all'ICG o CBGT, eccetera, invece il grande autore è Ugo. Allora, due cose che voi che siete qui saprete, scusate se sarò banale magari, spero di non esserlo, però a Brescia, con la parola salame, sappiamo che si intende la carne di maiale, quella di altri animali o mista, salata, insaccata, in questo budello, no? Nel budello dello stesso magari, sottoposta a dei processi di stagionatura. Ora, rimane difficile collocare le origini di questo prodotto, nonostante il nostro amico Gian Michele abbia fatto un grande lavoro su questo. Quindi diciamo che la genesi storica c'è tutta, ma ve ne parlerà lui poi in maniera diffusa. Però certo è che è un alimento comparso nella tradizione gastronomica del territorio brisciano in un'epoca davvero remotissima. Quindi, quando si parla delle prime tracce, andiamo, non so se è giusto quello che dico, credo di sì, però agli allevamenti suini di cui si parla nelle cronache di Polibio, ma forse anche più avanti con Varrone, quindi tu dici ancora prima. Poi, no, perché guarda, mi è capitato quest'anno, avrei dovuto partecipare ad un convegno sulla carne, a Robato, la storia appunto della carne che aveva organizzato Archetti, un convegno internazionale enorme, e io avevo un dettaglino da raccontare sulla letteratura contemporanea alla carne, no? E quindi dopo c'è stato l'anno scorso, poi c'è stata la pandemia, eccetera. Quindi ho sentito tante cose anche su queste date che non sono proprio tutte che collimano del discorso del salume, del salame, dell'insaccato nell'antichità. Ora, tutto quello poi che riguarda anche il Medioevo, con l'invasione Longobarda e l'influenza delle abitudini alimentari nell'Italia padana, portano certamente a modelli economici, alimentari diversi da quelli precedenti, da quello romano e così via. Sta di fatto che noi abbiamo questa, per quel che riguarda la conservazione, è da lì che si parte, è da lì che si muove tutto. Quindi tutte le sorgenti saline, da salso maggiore, salso minore, hanno assunto questo ruolo di primaria importanza. Comunque sta di fatto che noi, io credo che sia forse la fonte più importante, questo bel capitolare di Carlo Magno che all'inizio del IX secolo dava alcune informazioni sulla conservazione del maiale e delle carni di maiale. Mi piace sottolineare, cosa che ripeto, saprete già tutti, perché voi siete tutti, mi sa, addetti ai lavori, e quindi è come venga ritenuto importante dal redattore di questo capitolare, di questo documento, il fatto della pulizia e della lavorazione, intendendo, si presume, non solo l'igiene, ma anche la precisione della tecnica. E mi fa morire da ridere come sempre, perché lui è uno studioso, un giornalista, quindi quando inizia, naturalmente, abbiamo fatto 4-5 incontri nella primavera scorsa e già Michele mi ha dato l'ispirazione con le sue butade, perché con tre parole evidentemente si è abituato a stringare, che sono anche questo inizio con i primi 10.000 anni del porcello, pregiudizi e fake news, lo trovo molto intrigante, ed è qui da cui parte, per quello che mi è piaciuto anche molto vedere, al di là poi di tutte le interpretazioni religiose e semiologiche, e tutto quello che vuoi tu, sul trattamento in particolare della carne di maiale. Comunque sta di fatto che un capitolo importante dovrebbero, a cui vi date anche importanza, è quello delle spezie, con cui si sistema questa carne, soprattutto il pepe, ma anche aromi provenienti dall'Oriente, naturalmente, come cannella, chiodi di garofano, nocia moscata, zenzero, cumino, zafferano. E questo mi ricorda un po' anche tutto un discorso letterario, che proprio negli stessi periodi confluivano, anche tutto il discorso sulle fiabe, dello stesso periodo, dove erano stati tradotti anche delle parti delle mille e una notte, per esempio. Insomma, ci sono tante cose che poi, partendo da un discorso come questo, del sociale, collimano anche, in altre situazioni, sia di carattere, lo ripeto, letterario, non in senso stretto, magari di una sociologia della letteratura, ma che comunque hanno un loro perché. E' un'arte fare, allora il mio dialetto, anche se io sono camuna doc, però, vabbè, lo so male, E' un'arte fa sol porcel, fa sol porcel, ma è bello perché mi sembra veramente, fa sol porcel, e quindi è un'arte che nel Bresciano, come scrive la mia amica Anna Bossini, nel Bresciano e per i Bresciani, mi piace molto perché è molto lirica questa cosa che scrive, per i Bresciani il salame è un prodotto di eccellenza, si direbbe quasi legato alla sfera dell'affettività, per cui ci si può lasciare andare e dire che ai Bresciani il salame non piaccia molto, ma che lo amino con un'implicazione assolutamente viscerale. Per questo, alla sua riuscita finale, si deve dedicare la massima attenzione. Il primo passo da compiere è la scelta delle carni, naturalmente, magre, coscia, filetto, ma non è vero, perché poi ci sono tante varianti. Carni comunque sempre provenienti dai suini maschi o femmine castrati, che devono solvere le caratteristiche ottimali del prodotto, accuratamente, appunto, ripulite, tagliate, mentre il grasso del salame deve essere di consistenza dura, come quello del lardo, della pancetta, ma ripeto, poi su queste cose io non sono proprio una dè. Ecco, esatto, assolutamente, assolutamente. Originariamente il salame bresciano aveva una maggiore percentuale di grasso, perché nulla nel maiale doveva essere sprecato. E poi vedremo anche il perché. A partire dagli anni Ottanta, del secolo, del Novecento, questa percentuale è andata sempre più riducendosi, sino ad arrivare all'impiego di due chili su otto di carne magra. Ecco, prima dell'invenzione del tritacarne, le parti venivano sminuzzate col coltello. Infatti, il mio preferito è proprio quello di Montisola, non lo dovrei dire, ma insomma, ognuno poi si assume le proprie responsabilità. E i cultori della materia, a mano ancora, lo sentirete dopo, a utilizzare questi strumenti storici, come il massette, quel piano concavo di ligno e di marmo, in cui si versa l'impasto, viene salato, speziato e rugazzo, ossia lungamente emascolato, e poi fino a far sudare quel povero massadur, elemento che nella tradizione popolare è indispensabile per la riuscita. quindi tutta la parte del non solo conservare i valori nutrizionali di cui bisogna parlare, perché è importantissimo oggi che viene così demonizzato questo mondo di insaccati, sembra che tutti i mali, non lo so, siano legati agli insaccati, o sono tutti allergici, strane me, io non ho nessuna allergia, non lo so, infatti si vede, però vabbè, questa è un'altra storia, e cioè l'insaccato, soprattutto oggi come viene trattato, come viene, è un prodotto di assoluta qualità, che invece andrebbe rivalorizzato, in particolare proprio i salami. E sempre rifacendomi ad un articolo che avevamo scritto insieme io e Anna, i salumi non sono tutti uguali, la nostra provincia è ricca di insaccati e non, con forme, pesi e stagionature che variano a seconda delle tradizioni delle loro carni e dei loro ruoghi d'origine. La pianura e le valli nascondono preparazioni e ricette antiche che vedono protagonisti maiali con pecore, capre, ecce. Nella ricetta tradizionale del salame nostrano bresciano è previsto l'utilizzo di parti nobili del maiale, con appunto l'aggiunta di 25% di pancetta, non lo so, macinata a temperatura di due gradi, con la gioia. Adesso poi andiamo nei bizantinismi, ma quelli se li smazzano questi due signori. Tutte comunque queste tipologie di preparazione caratteristiche dalle diverse zone della nostra provincia rendono unico questo salume rispetto agli altri. E' tanto da far decidere proprio anche ai comuni, così come si voleva, con le deco, eccetera, che mi sembrava una cosa molto intelligente, valorezzare i territori. Alcuni di questi salami sono dei capolavori, il rete di Capriolo, il salame cotto di Quinsano, deco, il salame di Montesolo, l'ho già citato, la soppressa di Marone, che è anche quella, il salame di Alfianello, sono tutti deco, quello di Pozzolengo, eccetera, eccetera. però io chiudo, chiudo ricordando una cosa, se avete voglia di andare a leggere qualcosa che vi diverta, che è dal punto di vista culturale, letterario, molto bello per la nostra provincia, molto interessante per la nostra provincia, e che comunque è una chicca, mi piacerebbe farvi, così, rimandarvi, al destino del maiale nel Cinquecento, secondo El Fleur de Cobiat, che poi voi ritrovate in questo libro, a pagina 48. Noi abbiamo fatto un incontro su questo, e sulla massera d'Abbè, appunto, e noi ritorniamo lì. La storia del Fleur de Cobiat, quando decide e racconta questa macellazione, eccetera, lo fa in un modo davvero assolutamente lirico, letterario, e saporitissimo. E a volte anche un po' pieno di quella fuligine, e di quella, diciamo, di quel poco di sporco, che forse è l'ingrediente essenziale per tutta la nostra cucina. Prendetemelo con le pinze, perché non vorrei mai che qualcuno dicesse, ma la Boroni ha detto, che quel poco di sporco, perché allora i lardi di colonnata, tutte queste cose qui, cioè no. C'è una dimensione che ha quel filo, no? Quel filino lì, che ci rende tutto assolutamente straordinario, appetitoso, e bello. E io credo che siano delle grandi tradizioni a cui far riferimento. Ecco, l'ultima cosa, ma giuro, giuro, è l'ultima, perché altrimenti non do spazio ai miei, a loro, che sono ospiti, e sono loro i protagonisti, anzi mi spiace che poi Laura chiuderai tu, perché insomma il libro è vostro. È un libro completo, dalla storia, all'economia, all'allevamento, al maiale, cioè dal maiale al salame, che poi è quello più ricco, cioè ricco nel senso che ci sono tanti contributi, e i salumi tipici del Bresciano, e quindi io direi che questa è stata una scommessa vinta, Voi sapete che era inallegato anche col giornale di Brescia, ma secondo me, come è successo negli ultimi libri, è detto da Civiltà Bresciana, che non sono molti, sono molto meno rispetto al passato, però è come le dieci giornate di Brescia, fumetti, addirittura una graphic novel abbiamo fatto sulle dieci giornate di Brescia, che ha avuto un grande successo, e sono andati esauriti. Io quindi sono contenta, e ringrazio tutti voi che avete partecipato, ovviamente, Gian Michele, perché è una forza della natura, ma questo lo sapete anche voi, e Laura, perché è davvero una compagna d'avventure molto molto importante. Grazie. Finito. Grazie. Adesso magari ti smentisco un po', dai, a me per dire. Una cosa che non è negli appunti, ma che ci tenevo a dire, quella serie di quattro volumetti, tutti graficamente uguali, che abbiamo fatto olio, vino, formaggi, e adesso salumi, l'ha cominciato Don Antonio. Questo va detto, perché i primi tre li aveva impostati lui, io sono arrivato dopo a mettere qualche pezza, perché qualcuno lo stava anche un po' imbrogliando. ha detto, ma insomma. Comunque, quello dell'olio, per esempio, sarebbe scritto quasi tutto lui. Quello del vino, un po' meno, e quello del formaggio, ancora meno, ma perché l'età ormai aveva già passato i 90 da un pezzo. E però questo va... Per dire che, anche se non è una fresco di romanino, voglio dire, questa è cultura, anche questa, e qui dentro ci sta anche bene. Allora, dove ti volevo smentire, Carlo, adesso ti dico come la vedo io. Dicevo che per fare questo libretto c'è voluta un bel po' di faccia tosta e si è colmato un buco storico informativo dalla nostra provincia bresciana. Io ho fatto passare la rete, Google, eccetera, non ho trovato niente, c'è solo un libretto sull'uccisione del maiale tradizionale, che sul nostro libro è raccontata meglio, scritta da un collega alcuni anni fa. Ma è un conto raccontare l'albero, avete visto tutti l'albero degli zoccoli. Ecco, quella procedura lì adesso è vietatissima, tanto per mettere le cose a posto. La faccia tosta è legata al fatto che andando indietro del tempo una vera tradizione salumiera a Brescia non esiste. Tutti i salumi che produciamo, e adesso ne produciamo davvero tanti, non possono dirsi a rigore di tradizione bresciana. Sono stati tutti copiati, benissimo, ma dalle altre province. Il prosciutto, mica l'abbiamo inventato noi, lo facevano già i Galli al tempo dei Romani, e quindi nella pianura padana, ma dopo l'hanno fatto gli emiliani, mica i bresciani. Il salame forse è quello più bresciano, e si potrebbe risalire al 400-500, più indietro non te lo saprei confermare. Adesso, però, quello che troviamo in salumeria, quello che preferiamo in realtà a tutti, non è neanche più il salame bresciano. Te lo ricordi che era duro, molto stagionato, tritato fine, il foro non mi avventura a dirlo, sono Ugo, mi mena, però dovrebbe essere del 6, adesso invece si usa prevalentemente l'8 e il 10. Quello che usiamo adesso, morbido, un po' più grande, con anche i ladelli più grandi, è di tradizione mantovana o cremonese, quello mantovano a cialaglio, in quantità spesso industriali, quello cremonese non ce l'ha quasi mai. Tra noi, una sera che ci ridevamo suddico, abbiamo scritto un libro sull'isola che non c'è, perché la salumeria bresciana, t'avete andrei malagremia. Però andava colmata la lacuna di un testo completo, storicamente documentato, e anche finalmente tecnicamente ineccepibile, perché le favolette sono abitudini a raccontarle, poi quando vai a sfogliare i documenti, è un po' più dura. Questo è un libro, non scritto da me, da Laura Cottarelli, ma ha fatto a 20 mani, perché gli autori sono 10, e sono tutti maestri assaggiatori, con tanto di diploma, ma sono anche, in molti casi, esperti. Quando mi mandavano gli articoli, a me sembrava di sentire, cioè, gli articoli di quelli che avevano fatto i corsi di assaggio, letto i libri, erano una cosa, ma di quelli che avevano messo la mano nel pesto, per impastarlo, e infilarlo nel budello per fare il salame, veniva fuori dal foglio di carta, o dalla mail di internet, perché alcuni degli autori, il salame lo fanno davvero. Se vi leggete, per esempio, un articolo che è intitolato Il rito bresciano del salame, c'è proprio tutta la cronologia. Si fa ancora, l'unica cosa che è vietata di quella storia vecchia in cui il maiale gridava quasi un giorno intero, è vietato ucciderlo in cascina. Si porta al macello, con bollo c'è, il veterinario lo controlla, una volta che è morto lo si divide a vetare, due metri ne si portano a casa, poi il resto è tutto uguale dal medioevo in qua. La cosa nuova è che mi è venuto in mente a scrivere questi appunti, è un mio vicino di casa, è mancato alcuni anni fa, ma era anche anzianissimo, che era di origini mantovane. E lui, quando si avvicinava a Natale, prendeva la macchina, che guidava malissimo, peraltro, e andava a Mantua a cercare il cappello del prete. non so se lo conoscete, è quello il salume fatto con la contena di maiale triangolare, che ha la forma del tricorno dei preti di una volta. Adesso questo non serve più, cioè, tutto sommato, lo trovi a Brescia con grande facilità, sia il prete che il vescovo. Infatti, ho pregato, Ugo, poi magari ci dà una spolverata sui salumi da pentola, che sono quelli che, per tradizione, finiscono in tavola più spesso a Natale. E hanno una bella tradizione. E nascevano, in realtà, la roba più povera dei poveri, nel senso che erano i salumi che si facevano per ultimo, utilizzando tutto quello che era rimasto sul tavolo e in giro. Allora, il fatto che in Italia ci sono 700 salumi tradizionali, non sono DOP, sono dagli affumicati del nord, penso allo Speck, a quelli pieni di peperoncino che non senti più neanche il sapore della carne del sud. Di questi, 43 sono i GPO DOP, quindi sono tutelati dall'Unione Europea. Nel libro ce l'elenco, che è un bel numero, perché in Francia ne ha 20, la Germania ha 18 e la Spagna a cui noi diamo volentieri un contributo notevole in denaro, perché il giambone iberico è buonissimo, ne ha 17. Nessuno di questi 700 salumi è nato a Brescia. E mi spiace, Carla, ma lei si è. io credevo che alcuni salumi dell'alta Valcamonica, come il violino di Capra, avete presente la coscia di Capra fumicata, che si taglia tenendolo così per cui il violino, fosse di origine Camuna. Poi invece ho scoperto che l'avevano copiato in Valtellina, poi ho scoperto che non era neanche in Valtellina, l'avevano inventato gli svilzeri del Canton Grigioni, che l'avevano insegnato i valtellinesi e l'hanno insegnato i comuni. La strada è lunga, ma ricostruendole così. Il motivo che la Valtellina abbia copiato dai Grigioni però è politico. Per secoli la Valtellina era proprietà del Vescovo di Coira, quindi era Svizzera, sostanzialmente. Quindi non abbiamo questa tradizione così consolida, se non copiando, adesso ci sono dei bravissimi a copiare. Ci consoliamo di questa mancanza col fatto che siamo i maggiori allevatori di suini in Italia. Il 14% della produzione nazionale di suini si fa a Brescia. Tenete conto che tutti pensano che siamo i maggiori produttori di latte, ma è il 12% della produzione nazionale. Quindi i suini sono ancora più importanti. A Brescia ci sono più suini, più quadruppe di suini che abitanti, perché i suini sono 1.300.000 e se non sono calati ancora mentre ci parliamo gli uomini sono 1.200.000 immigrati compresi. Adesso sono calati mi pare in base alle ultime rilevazioni di un migliaio. E questa è anche questa è una novità. Anche questo allevamento dei suini così diffuso, così presente, qualche volta anche invadente e puzzolente che troviamo soprattutto nella nostra bassa. Anche questa è una novità. Nel libro ho trovato una testimonianza che abbiamo fatto una fatica bestia procurario della guerra a Cottarelli di un tecnico dello gioco profilattico che se lo ricorda. Alla fine della seconda guerra mondiale quel poco di allevamento suino che si era salvato erano 80.000 suini a provincia di Brescia adesso sono un milione e tre. La storia è tutta cominciata con il boom economico con l'aumento della domanda e questi andavano allo gioco profilattico facendo la fila per farsi insegnare a passare da 100 suini o da 4 suini che avevano in famiglia dandogli gli scatti della cucina a passare a 10.000 20.000 50.000 hanno imparato benissimo ed è secondo me anche una bella dimostrazione che seguire la scienza non è proprio così sciocco come qualcuno Novax cerca di farci credere questi sono andati da quelli dove erano degli scienziati qualcuno è ancora vivo anche se anziano e si sono fatti insegnare da chi sapeva e l'hanno imparato benissimo il suino è sempre stato l'animale da carne questo da 7-8.000 anni però in una grotta dell'Indonesia hanno scalfito un maiale di 45.000 anni fa e probabilmente quindi gli indonesiani tenete come il maggior produttore del mondo di maiali è la Cina non è l'Europa la Cina è su un mezzo miliardo di maiali all'anno l'Europa arriverà a 200 milioni a fatica ancora fino le pecore i cavalli persino le vacche si mangiavano per fame o per disperazione fino alla seconda metà del secolo scorso che per me è l'altro ieri e per qualcuno dei presenti anche se andate a sfogliare i testi trovate che le vacche erano distinte in animali da lavoro quindi buoi o da latte le vacche da carne è una specie che non esisteva fino al 1980 1990 che sono molto vicini la bistecca è un modernismo una novità la salamina no perché a fare le salamine hanno imparato gli antichi romani quando catturavano le donne in Lucania Basilicata e queste facevano la lucanica gli antichi romani che non erano molto carnivori però hanno imparato a fare e quindi la lucanica come minimo risale a 700 anni prima di Cristo cioè il periodo in cui i romani conquistavano via via le regioni italiane i greci e gli egizi i maiali li allevavano li mangiavano ho trovato e mi sono anche molto divertito a riprodurlo nel libro il tratto dell'Odissea dove viene descritto l'allevamento di suini del Porcaro e Umero che era quello fedelissimo a Ulissea quello che è buffo è che aveva fatto quello che in Valcamonica chiamerebbero un barec in cui metteva dentro i suini la sera e di giorno li mandava in giro a pascolare e quindi in realtà 2500 anni non è successo quasi niente i romani erano abbastanza vegetariani i nobili mangiavano carne di caccia anche animali allevati ma solo ai piani molto alti della società i mangiatori di carne invece erano i longobardi quelli erano abituati a mangiare carne in gran quantità e quando hanno conquistato l'Italia sono arrivati anche con un bel po' di maiali e li hanno mollati tutti nella bassa padana i longobardi si sono insediati sostanzialmente nella fascia dei fontanili per capirci quindi a sud delle nostre valli in Val Camonica erano celti e sono rimasti i celti e anche i legionari romani in cima alla Val Camonica non sono mai riusciti ad arrivarci mentre la fascia dei fontanili era una selva intricata piena di acquitrini paludi per un maiale era più o meno il paradiso terrestre alla fine però è cambiato il tempo ed è arrivato quel clima stupendo che c'era nel medioevo che noi tutti speravamo calzandosi la temperatura tornasse invece ci ha fregato non siamo tropicalizzati e secondo i test era l'ottimo medioevale a questo punto sono messi a coltivare i campi perché pioveva regolarmente la temperatura era gradevole e allora i maiali liberi non andavano bene facevano come i cinghiali sarebbero andati a saccheggiare i raccolti e allora li hanno rimessi in stalla quindi andiamo verso il 1100 1200 i nobili mangiavano sempre selvaggina anche da noi per i poveri c'erano cereali erbe le cicorie raccolte nei campi che poi dopo che è arrivata il mais è diventata la polenta tipicamente surda lo sapete che molti cibi molto saporiti dicevano vabbè avevano qualcosa da mettere insieme alla polenta col cavolo la carne salata o la ringa essiccata si metteva in mezzo al tavolo la polenta ci passava in parte prendeva un po' di profumo poi quello che andava giù nello stomaco era polenta surda il consumo di carne esplode dopo le due guerre e dopo gli anni 50 volevo dirvi che nel libro non ci siamo dimenticati delle tradizioni dei massaduri che giravano per le cascine alle prime nebbie di novembre ci sono ancora e anche del rito bresciano dell'uccisione del maiale che abbiamo un po' addomesticato francamente perché raccontato così come era davvero era un po' bieco abbiamo anche messo la citava prima Carla la testimonianza del poemetto di Galeazzo degli Orzi che è diventato la celeberrima commedia in bresciano la massera da be e uno degli autori che è Costanzo Gatta ce l'ha riscritta interessantissimo però farsi un'idea di cosa mangiare se la massera non ci è arrivato neanche Gatta ma da quel che si intuisce era un po' una schifezza faceva un pastolotto col cervello del maiale la farina quant'altro ecco noi però non ci siamo dimenticati di essere nel terzo millennio quindi noi abbiamo tenuto conto della sensibilità ambientale ma messo in difficoltà anche a me vi dirò francamente perché la sensibilità ambientale e verso il benessere degli animali è una roba recentissima io ho ritirato fuori della cosa che avevo scritto cinque anni fa era superata e infatti mi hanno tirato le orecchie alcuni amici che sono qua tra gli autori del libro dicendo ma no però abbiamo dovuto rimettere là a posto e dedicare un intero capitolo al benessere degli animali perché è quello che è incredibile che esiste una normativa europea abbastanza remota che prescrive delle cose che noi ci guardiamo bene da fare lo scopo di questa attenzione al benessere animale che non è così diffuso ma noi però ci crediamo e lo proponiamo ci ricorda anche una cosa fondamentale che abbiamo scoperto circa nel 1600 che il salame buono si fa solo con le carni di un suino felice non so se è felice di essere ucciso comunque allora un po' un po' passare la parola grazie io cosa devo aggiungere devo un po' smentirti anch'io però perché c'è un salume solo bresciano e tipico bresciano e Carla mi ha già detto che gli piace è la salsiccia di Breno che è un deco è fatta col castrato è nata nel 1882 ho capito che è nata nel 1800 no 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 però diciamo ha solo 200 anni di storia poco meno però insomma ci sono tanti salumi tante diopi italiane che non hanno 200 anni di storia quindi diciamo che abbiamo anche un qualche salume un salume tipico bresciano noi bresciani cosa abbiamo fatto ci siamo trovati lì sempre un sacco di maiali possibilità di allevarli perché avevamo l'ambiente era classico che in ogni famiglia ci fosse il maiale era il bambino aggiunto perché mangiava quello che non mangiavano gli altri cioè già si mangiava poco e i maiali probabilmente mangiavano pochi io ricordo mia madre che mi diceva che da bambina andava a pascolare il maiale a pascolare la porca sul mella e questo è già cioè è preistoria mia mamma era del 25 quindi penso nel 35 cose del genere perché ha fatto la quarta elementare perché la quinta non era ancora arrivata a cigole io sono della bassa bresciana e si andava a pascolare la porca perché così sulle rive del mela dove c'era l'erba e il maiale grufolava e cercava qualcosa in mezzo a 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 una qualche radice un qualche qualcosa da mangiare e quindi il maiale l'ha trattato molto bene perché era poi quasi l'unica carne che si mangiava perché dopo come diceva prima Gian Michele le bestie non si uccidevano cioè le vacche si usavano per il latte i buoi si usavano per trainare i carri o gli aratri mio nonno era mi diceva io ero a capo dei buoi lui era quello che guidava i buoi quindi era la persona importante perché questi animali che mio nonno era alto 1,50 pensava 30 kg quando era sul capotto bagnato dicevo come facevi a tenere quegli animali lì no no bisogna saperli tenere e io lo facevo e appunto la carne che veniva consumata dalle nostre parti era il maiale si conservava si faceva il salame si faceva il salame ma non perché non volessimo fare il prosciutto perché il prosciutto non si conservava perché non avevamo il clima per fare il prosciutto non a caso il prosciutto viene fatto ancora adesso le diopie italiane sono in determinati territori per carità adesso con le celle potremmo fare il prosciutto in tutta Italia senza nessunissimo problema perché abbiamo temperatura controllata umidità ventilazione tutto ciò che serve per fare un salume lo possiamo costruire cos'è che manca? manca il microclima manca quello che ti dà la terra mancano i batteri lattici mancano i lieviti manca la storia manca il territorio possiamo costruire qualcosa ma non abbiamo il territorio la differenza tra i prodotti italiani e il resto del mondo è che noi abbiamo un territorio che è unico noi abbiamo così tante differenze perché abbiamo ogni paese ha le sue eccellenze vuol dire che tra Cigole e Pavone c'era la guerra chi faceva il salame più buono ma non solo tra Cigole e Pavone ma anche tra San Gervasio e tutti i paesi l'intorno tra Alboino Manerbio erano si sente che il salame non è di Cigole si sente che il salame è della Val Camonica e non della Bassa noi maestri assaggiatori ONAS devo dire che ONAS per chi non lo sapesse è l'organizzazione nazionale di assaggiatori di salumi e si diventa assaggiatori cioè tecnici assaggiatori e maestri assaggiatori attraverso dei corsi che poi uno partirà a gennaio ma se mai alla fine ve lo racconto noi maestri assaggiatori e tecnici assaggiatori in provincia di Brescia facciamo tutta una serie di giurie Val Camonica Bassa Bresciana Occidentale Bassa Bresciana Orientale Bassa Bresciana Centrale Valtrompia e Bassa Bresciana un po' più spostata facciamo sei giurie tutti gli anni di tutto il territorio partendo da Pozzolengo dove abbiamo una deco nostra Bresciana molto importante con un'identificazione specifica e noi attraverso l'assaggio noi riconosciamo il territorio attraverso il gusto del salame c'è qualcuno perché devi dire dico sempre ci sono i furbetti del quartierino perché poi noi di solito siamo oh che è il di Brescia che è il che è il di Brescia che è il di Brescia e il salame della boutica e invece mangiamo più spesso salami fatti in casa oppure fatti da piccole realtà da macellai o piccoli salumifici che lavorano in maniera straordinaria perché fare il salame in casa adesso è diventato molto difficile il clima è cambiato quindi adesso abbiamo bisogno di armadi frigoriferi armadi di stagionatura per riuscire a far fermentare il salame per chi non lo sapesse il salame è un salume fermentato dico ma fermento il salame no no il salame fermenta se non fermenta va a male ma noi attraverso le nostre giurie noi tutti gli anni siamo aggiornati su come sta andando il salame bresciano in tutte le loro sfaccettature adesso un anno abbiamo fatto è la stagione adesso adesso mi viene voglia parlare di salami ma adesso comincia a venirmi la colina in bocca perché sto pensando ai salumi cotti come diceva già Michele i salumi cotti che anche qui in provincia di Brescia ogni territorio ha i suoi perché partiamo dallo nato dove c'è l'os de stomach che è una deco però fatto in vescica pezzi da un chilo un chilo e mezzo quindi roba importante con dentro questi pezzi di osso però ci spostiamo di un qualche chilometro non tanti una decina di chilometri e l'os de stomach non viene più fatto in vescica ma viene fatto nel budello grosso nella manica dove viene lasciato il pezzo di osso viene lasciato intero e centrale in maniera che possa stagionare in maniera diversa e viene stagionato a lungo sono quei salumi che venivano mangiati quando veniva poi finito di raccogliere il grano si faceva festa erano salumi salati perché dopo 6-7 mesi fate conto che questi sono i giorni del maiale quest'anno col clima che c'è stato nessuno ha fatto il maiale prima dell'8 dicembre nessuno di quelli che fanno ancora il maiale in casa ha fatto il maiale ai morti una volta si cominciava con i morti adesso si fa l'8 dicembre e comincia ad esserci un clima freddo a sufficienza per fa sì che la lavorazione del salame venga in maniera adeguata ma poi ci spostiamo sui salumi cotti il prete io ricordo io ho avuto una salumeria in piazza del mercato visto che siamo qui in centro per 5 anni ma io ricordo nel 1990 quante salumerie c'erano in Brescia e quante beccherie dove c'erano quelli specializzati in salumi qui in via San Faustino ce n'erano 3 o 4 che vedevi sempre appesi i famosi preti che dicevi te o vescovo perché venivano chiamati vescovo o prete questi triangoli di che io bassaiolo diciamo ma che roba è quella lì eh l'impasto del cotechino viene cucito nella cotenna ma no a cigole non facciamo mica quelle robe qui a cigole si mangia il cotechino cigole è il salame più buono del mondo è di cigole perché sono nato lì è il territorio che mi richiama io quando assaggio un prodotto della bassa bresciana io torno indietro con la memoria se impari ad assaggiare e hai una memoria gusto olfattiva ricordiamoci che i nostri ricordi più lontani e più belli sono sempre legati a un cibo che fosse della nonna della zia dell'asilo io ho un ricordo del gusto dell'odore della pasta al pomodoro e dell'asilo che era caratteristico e mi è capitato di sentirlo un anno che ero in un ristorante al mare alberghi quelli dove avevo accompagnato mia suocera c'è il buffet eccetera odore c'è qui la mia cuoca dell'asilo perché c'è l'odore ma figurati io memoria gusto olfattiva devo dire ce l'ho spiccata da sempre anche perché ho sempre mangiato bene mia madre è una bravissima cuoca settimo sono settimo di undici figli quindi doveva inventarsi non mangiavo mai due giorni la stessa cosa anche perché già farlo per tredici perché undici più i genitori tredici farlo per ventisei non aveva le padelle quindi doveva fare per forza finiva tutto misurato perché non non ce n'era mai in abbondanza però mangiavamo meno carne però il salame non mancava mai era la carne che si mangiava cioè il cotechino d'inverno la domenica si mangiava sempre il cotechino per la mia grande gioia perché io un cotechino riuscivo a mangiarlo quasi da solo un cotechino di un certo peso e quindi io ero molto contento del cotechino e continuando sui salumi da cuocere abbiamo visto l'osda stomache cambia poi abbiamo le coppe da pentola coppe da pentola sono brescia ed intorni nella bassa bresciana la coppa difficilmente veniva usata per essere cotta brescia ed intorni invece c'era la coppa da pentola che veniva stagionata a 15-20 giorni un mese e poi si faceva cuocere e in altre anche in Valcamonica viene fatta quindi mi dicono che anche in Valcamonica viene fatta ecco io la coppa da pentola in Valcamonica non l'ho mai assaggiata non l'ho mai vista nelle salumerie o nelle macellerie in Valcamonica abbiamo tanti salumi copiati o meno dai dagli svizzeri o dai valtellinesi però abbiamo è la la valle che ha più varietà di salumi perché abbiamo la salsiccia del castrato di Breno abbiamo il salame tant'è che secondo me la la Valcamonica potrebbe essere l'unica zona della provincia di Brescia potrebbe fare una deco un IGT perché ha gli spazi per e una caratteristica sul loro salame hanno una caratteristica ben definita da quando finisce il lago il lago di Iseo arrivare a Altonale abbiamo un sentore dei sapori che riuniscono tutti i salami della Valcamonica sono ormai sette anni che facciamo giuria in Valcamonica l'abbiamo fatta anche in due posti diversi una nella bassa e una nella alta ma l'impronta della Valcamonica c'è è tutta una questione proprio di territorio e lì come nel silter che è il formaggio la DOP che è una DOP e si fa dalla bassa all'alta Valcamonica anche il salame potrebbe essere prodotto in Valcamonica con una DOP dopo qui bisogna che si muovano un po' gli enti vari la comunità montana eccetera che devo dire ci dà sempre disponibilità crea sempre il concorso e questo vuol dire arrivare a fare una qualità quando la gente si mette in gioco perché ci sono produttori macellai e piccoli allevatori che poi trasformano aziende agricole e poi ci sono anche i privati che vengono io e lui abbiamo fatto lo stesso maiale però lui lo porta a casa sua e lo porta a casa mia vogliamo vedere com'è classificato avevano due punti di differenza si vede che è lo stesso ma allora siete bravi cerchiamo di fare il nostro meglio cerchiamo di capirci un po' sui salumi cotti un'altra cosa che poi che abbiamo come caratteristiche abbiamo il quinsano il salame di quinsano che si fa sia cotto che crudo ma a differenza che adesso vai in in bottega in salumeria oppure al banco dei freschi e dici c'è il salame da pentola e il salame da taglio il salame di quinsano no c'è il salame di quinsano che nei primi 40 giorni va cotto dopo i 40 giorni si può usare da taglio questo cosa vuol dire vuol dire che si fa un salame di alta qualità anche perché viene fatto sempre con maiali di razza antica cioè mora romagnola cinta senese il nero dei nebrodi eccetera o il nero di parma l'importante è che sia una razza antica quindi abbiamo salami di altissima qualità in provincia di Brescia e e sono cose importanti e tra l'altro anche cotto qui nasceva era nata una volta la discussione con la la nostra vecchia presidente cioè vecchia nel senso la nostra fu presidente Bianca Piovano che è stata l'anima dell'ONAS per che lei è abituata col salame piemontese cotto che il salame piemontese è a una circonferenza cioè ha un diametro di 12-13 cm e è parecchio grasso perché viene fatto solo unicamente cotto è un salume che trovi in tutte le salumerie il salame cotto piemontese perché poi fanno il salame crudo piemontese ma un'altra cosa vedi gli ho detto la differenza che noi il salame di Quinzano è lo stesso salame quindi tende a essere un po' più asciutto ma per me che sono Bresciano della Passa dove il salame fresco si fa cuocere è con grande attenzione ai tempi e alle temperature di sobollire piano e non superare la mezz'ora di tempo perché non poi diventa asciutto ma rimane succulenza ma una succulenza piacevolissima di una dolcezza sembra di mangiare un prosciutto perché si sta usando un salame di altissima qualità carni di alta qualità quindi abbiamo dei prodotti di ottima qualità ci spostiamo in più verso invece verso la parte occidentale della provincia e lì troviamo le rosette troviamo la rete di Capriolo e verso la Franciacorta abbiamo altri salumi tipo abbiamo anche la Margiola che è un altro salame che somiglia un po' alla rete di Capriolo abbiamo ogni paese ha il proprio salame e viene identificato la ricchezza che abbiamo e che sappiamo mantenere e che riusciamo a continuare a mantenere attraverso piccoli produttori è proprio la ricchezza del territorio cioè ogni paese ha la ricchezza che abbiamo in Italia ogni paese ha i propri lieviti i propri batteri lattici la propria azienda ma nel senso azienda casa dove lì il salame avrà sempre lo stesso sapore se io il mio salame io ho sempre fatto il salame da mio nonno poi è mancato il nonno sono andato da mia nonna il salame era cambiato abitavano a 200 metri di distanza sempre a Cigole però mancava qualcosa erano due case diverse mio nonno abitava nella Filanda dove crescevano i bacchi da seta ai tempi del nove prima della prima guerra cioè della prima della seconda guerra e quindi invece mia nonna commerciante quindi era sempre stata la casa commerciale quindi non c'era mai stato entro niente di agricolo eccetera in casa mio nonno andavi là c'erano tutti gli attrezzi per fare il contadino perché mio nonno era il contadino e il salame cambiava con 200 metri di distanza stesso stesso maiale stesso massadur perché ricordo bene il massadur quando ero piccolo mi facevo un po' impressione perché era un contadino e nella scarfogliatrice ci aveva messo dentro la mano praticamente di una mano aveva solo il pollice e il mignolo quindi fate conto che gli manchi tutta la mano e vedevi questo mignolo lunghissimo c'è due artigli ma dovevate vederlo legare il salame con queste due dita era qualcosa di fantastico e noi abbiamo raccontato un po' la storia dell'isola che non c'è però abbiamo un sacco di spiaggette oltre che non avere l'isola però abbiamo un sacco di spiagge dove in ogni spiaggia c'è un panorama diverso a livello gustativo olfattivo e a livello proprio di trasformazione la bellezza della nostra Italia e in particolar modo della nostra provincia è proprio questa varietà di sapori e di profumi io siccome anche con i formaggi sono maestro assaggiatore anche di formaggi quindi conosco bene la territorialità del cibo del cibo breciano lo conosco bene e devo dire che il saper riconoscere da una parte all'altra della provincia di Brescia è bellissimo abbiamo una provincia ricchissima perché abbiamo un territorio molto vasto e vario perché abbiamo tutto abbiamo due laghi qui oggi a Brescia non sta nevicando fuori Brescia sta nevicando dappertutto perché a Brescia abbiamo il lago di Garda che ci protegge un po' da quello che è la neve ma non solo quello i nostri prodotti pur non avendo delle DOP pur non avendo una storia secolare dietro nessun salume per cui valga la pena scrivere o fare una DOP però abbiamo tutto delle micro storie legate al microclima però abbiamo dei grandi prodotti pur essendo micro quindi direi che sui salumi ci siamo divertiti e quando Già Michele me l'aveva parlato mi dice ma insomma poi a Brescia non abbiamo sì non abbiamo ma abbiamo una varietà cioè parlando di salame se dovessimo descrivere ogni salame di ogni territorio dovremmo fare la storia di ogni paese della provincia di Brescia adesso è tardi perché un po' si sta perdendo questa abitudine devo dire che tanti dei nostri maestri assaggiatori sono anche norcini ma norcini per caso non lo fanno di attività c'è il bancario c'è il contadino ma che fanno un lavoro in maniera straordinaria e quindi danno sappiamo bene cosa vuol dire trasformare un salame e sappiamo bene cosa vuol dire fare un prodotto di alta qualità o un prodotto di bassa qualità Gian Michele volevi aggiungere te no adesso si è alzata volevamo far dire due parole di conclusione a Laura a Cotarelli dovresti venire qua a sederti e poi abbiamo preparato di là non so che Salumi abbia procurato Ugo se non sono buoni prendete il salame facciamo una breve degustazione che non è una mangiata di pane salame è una roba con un minimo di ragionamento anche se non vi facciamo fare quelle pallosissime schede che di solito lui fa fare a noi quando si fanno i concorsi anche perché se le schede le fai male il produttore che viene fuori con un voto basso non dico che ti mena ma ci vai molto vicino quindi bisogna fare le cose con si e poi va spiegato uno dei motivi e l'altra riflessione mi viene in mente mentre Ugo parlava che sto libro qua se lo leggete adesso è ancora buono tra due o tre anni forse anche poi sta cambiando il clima sta cambiando i costumi alimentari e quindi sarà tutto da riscrivere questo qui l'abbiamo aggiornato al settembre del 22 e ce l'ho anche scritto perché il mondo cambia tutta la parte economica abbiamo dovuto rifare l'ex novo perché nel frattempo era scoppiata una piccola guerra in Ucraina e quindi anche le forniture di mangimi eccetera è tutto cambiato poi la Cina aveva avuto un problema di peste suina e aveva battuto 200 milioni di maiali così ridendo e scherzando quello che è incredibile è che la Cina in due anni ha ricostruito il suo patrimonio di maiali sono bravissimi eccetera e la cosa però che cambiano i clima per esempio a Brescia non c'era non c'era una tradizione del lardo e mi erano spiegato molti anni fa che non si faceva perché la nebbia impediva la stagionatura del lardo il lardo buono dovevi andarlo a prendere in Val d'Aosta o in Toscana quello di 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 colonnata e adesso invece questo problema è più la nebbia andò e quindi si potrebbe dopodiché sono subentrate le stanze coibentate quello che effettivamente Ugo ha ragione occhio che ha detto una cosa importante se la stanza in cui stagionate i salumi gli date un'imbiancata ecco avete finito di fare quei salumi lì dovete ricominciare tutto da capo fino alla prossima generazione perché in effetti non è lo sporco come credo si potesse immaginare quando parlava Carla prima ma sono proprio i batteri che si appiccicano i muri e l'umidità che ci va messa che modificano la la fermentazione del salame e e anche degli altri prodotti il primo prosciutto mi veniva in mente che sono riuscito a vederlo io 30 anni fa dunque il prosciutto fondamentale è l'aria e le correnti che vengono dal mare dal mar Ligure che si infilano nelle colline del Parmense e un norcino bresciano bravissimo l'aveva fatto con l'aria del lago di Iseo lo faceva asciugare aspettando il vento che veniva giù da Montiso lo abitava Iseo aveva costruito questo cascina sul bordo del lago e prendeva e si riusciva a fare il prosciutto crudo adesso credo che con a parte il fatto che se volete fare il salame a casa è mica vero che è vietato con un pari di miliardi di euro comprate un armadio di stagionatura termocondizionato impostate la temperatura l'umidità poi lo poggiate in garage e quando è l'ora tirate fuori il salame perfetto e quindi non c'è più neanche gusto tutto sommato e il salame di Montisola che era tradizionalmente tagliato a coltello mi spiace dare un dispiacere a Carla ma il taglio a coltello della carne di maiale si fa con una macchinetta elettrica con 5 o 6 lame che assomigliano a coltelli che girando vorticosamente ti restituisce la carne tagliata a coltello non c'è più il tizio con la manina come c'era ai tempi che raccontava Ugo prima Laura come avete sentito dalla professoressa Boroni da Gianmichele Portieri e Ugo Bonanza è sicuramente un argomento molto gustoso e interessante personalmente io voglio ringraziare la professoressa Boroni Gianmichele Portieri che oltre autore è anche curatore del libro Ugo Bonanza e tutti gli autori che hanno partecipato a questa avventura un po' roccambolesca un po' lunga la pazienza che hanno avuto il risultato però è a mio modesto parere sicuramente molto positivo colma effettivamente come diceva Portieri una lacuna nel panorama editoriale anche bresciano e se è pur vero che molto probabilmente c'è stata una bambassa di questi libri col giornale di Brescia siccome non siete in tantissimi se volete qualche copia possiamo anche recuperarvela io però mi fermo qua perché va bene benissimo mi fermo qua perché io voglio sentire la lezione di degustazione del maestro assaggiatore Bonanza e una cosa il libro tratta anche degli aspetti degustativi olfattivi di questi salumi non ci sono ricette grazie no la degustazione la facciamo nella sala di là perché volevamo farla qua fuori ma è gelido andiamo in biblioteca in mezzo alle vecchie carte esatto io vi chiedo scusa perché il re luce probabilmente da una bronchitona e continua ad avere questi attacchi di tosse e vi ho anche disturbato durante però di là c'è la degustazione e inoltre avevo qualche domanda anche da fare ai miei ai miei interlocutori però niente faremo una seconda puntata grazie a tutti e niente divulghiamolo questo libro perché è molto bello buona giornata buona serata che continua di là